Ciao amici, ben ritrovati, siamo alla terza lezione, quindi in questa lezione andremo a capire come si lavora in Microsoft Access e come potremo superare i limiti di questo software. Allora, apriamo ad esempio questo database che è ricco di query. Allora, vedete, qui ci sono tantissime tabelle e ci sono anche tantissime query. Bisogna darsi un metodo su come si lavora all'interno di Microsoft Access. Altrimenti, se iniziate a dare i nomi un po' a casaccio, a un certo punto non si capirà più niente, perché anche quando voi andate ad eseguire un processo di ETL, quindi andate a fare una trasformazione di dati, voi partite da un punto e poi andate magari a fare anche 10 query, perché magari questa query richiama il risultato di questa query. Questa query richiama una tabella più messa in relazione con quest'altra query. Per arrivare ad avere il dato che a voi serve finito, quindi può essere che sia necessario creare anche diverse query. Difatti se vedete questo processo qua, vedete che ci sono un po' di query, sono circa una trentina di query per arrivare all'elaborazione finale, perché dovete magari incrociare tanti dati, passare più tabelle, eccetera, eccetera. Quindi è importantissimo darsi un metodo. Allora, il primo metodo che mi sono dato io, essendo che in Microsoft Access, a differenza di SQL Server, non si possono fare delle librerie, io ho i gruppi che vedevamo nella lezione precedente, che sono un po' pericolosi, quindi andate qua e fate custom e create i gruppi. Io cosa ho fatto? Creo delle query vuote, ok? Ci metto una lettera e quattro numeri, poi faccio un po' di asterischi e ci metto che cosa fa il gruppo di query che sta sotto. Così io leggendo questi testi qua so che cosa fanno questi gruppi di query qua. Quindi so che questa serve per selezionare l'area del ciclo. Questa ad esempio fa l'elaborazione di tutto il mio database. Ok, perché poi ci metto una nomenclatura a sinistra, ci metto una nomenclatura con l'alfabeto e con i numeri, perché devo andare a definire l'ordine delle mie query. Se io non ci mettessi, ad esempio, se io qua non ci mettessi la lettera e il numero, ok? Prima di mettere il testo, ok, bisogna sempre cercare di metterlo il più parlante possibile. La m verrebbe prima della r, quindi quando vado a fare un ordinamento alfabetico, io vedrei che questa query qua, ok, è dopo questa query qua. Ma magari questa query richiama anche questa. E quindi a un certo punto, quando ne avete tante, non capite più bene il processo logico di come viene creata l'elaborazione del vostro processo. Quindi mettendo la lettera A0490, poi il testo, e poi andate con un numero più alto, sapete che questa è la prima elaborazione che fate, questa è la successiva, e qui magari, e qui si stora perché vado a creare una tabella. Ogni tanto bisogna storare il dato perché magari state elaborando troppi dati e dovete per forza metterli su disco. Dopo riprendo, vedete, e riporto qua probabilmente la leggenda da questa tabella, e vado avanti e continuo con l'elaborazione. Qui storo ancora, qui storo ancora perché probabilmente qui ho tantissimi record, e poi vado avanti. Anche perché Access, quando voi elaborate una query, non solo avete il problema che potete occupare fino a 2 giga di spazio disco, ma potete eseguire query che portano via in memoria, ok, quindi in memoria qui, al massimo 2 giga. Quindi se voi avete una query qui che occupa 2 giga, ad esempio qui vedete c'è una query qua e una query qua, probabilmente, ok, quando io richiamo questa query qua di creazione, lui richiama tutte queste sottoquery che ci sono qua, no? Quindi l'insieme delle elaborazioni di queste query non deve superare 2 giga. Se supero i 2 giga, si blocca, la query non si esegue e vi va in errore. Quindi qua ne ho già fatto un'altra, perché probabilmente le query successive, ok, se magari creavo la creazione qua, oppure creavo la creazione qua, ma non so, facevo quella da 1200, l'insieme di queste query qua sarebbe andato a superare 2 giga di elaborazione di memoria. Quindi ecco perché è anche importante fare tante volte lo storaggio su disco, senza fare, ad esempio qua vedete ce ne sono tantissime di elaborazioni, e poi solo alla fine vado a fare quella di accodamento o di storaggio, perché alla fine poi faccio calcoli magari semplici e non vado ad occupare tanta memoria. Quindi diciamo che comunque vi stavo dicendo che bisogna mettere l'acronimo e lasciare sempre degli spazi, ad esempio qui ne lascio pochi, e poi qui magari passo anche di 50 spazi al colpo, da 600 vado a 650, 700, 900, quindi salto addirittura 200, e così via. Perché poi nel corso del tempo può sempre succedere che dovete andare a introdurre un passaggio in mezzo, perché magari il calcolo che dovete andare ad implementare non lo potete fare sulla stessa query, dovete per forza farlo su una query nuova. Quindi è sempre importante lasciare anche degli spazi, in modo da poter gestire la sequenza sempre anche nel tempo. All'inizio quando ero partito, io ero partito solo con i numeri, partivo 1, 2, 3, 4, poi mi sono accorto che appunto succeda spesso di fare integrazioni e non era molto gestibile. Mettendo una lettera, ok, e poi i numeri, 4 numeri, vi assicuro che io elaboro tantissime cose, non andrete mai oltre, insomma ho dei forti dubbi che riuscirete a superare il limite di questa nomenclatura. Poi vedete qui faccio la lettera A, e poi magari quando cambio il programma, qui c'è un altro programma, ok, di elaborazione, e cambio e metto la B. Potete andare avanti così fino alla Z. L'importante è che fate anche tanti spazi, magari fate anche spazi da 500, ma l'importante è farli, tanto avete tantissime lettere, quindi riempire un database con tutte le lettere dell'alfabeto, ad esempio qua arrivo fino alla G, H e così via, è veramente veramente dura, perché potreste andare a crearne veramente veramente tante. Un'altra cosa importante che vi dico è che quando voi andate a fare una query di creazione tabella, ok, è sempre importante darsi un metodo anche qua, perché anche qua voi potreste dire che questa tabella qua si crea A0500BIOPRODUTTIEOVTABLE, ok, vedete che io qua ci ho messo l'underscore crea, appunto perché mi sono dato un metodo. La tabella, nel mio caso, si chiama sempre uguale a query senza l'underscore crea, perché all'interno di Microsoft Access un oggetto può essere chiamato in un nome univoco. Io non posso chiamare una query con un nome e chiamare poi la tabella con lo stesso nome, no, perché va in conflitto, devono essere sempre con nomi univoci. Allora, per darsi una regola, dato che poi comunque la sequenza anche sulle tabelle deve essere ispertata, perché anche qua vedete ne creo più di una, perché devo per forza storare il dato più volte, allora anche qua per non creare poi confusione, ad esempio vado sulle tabelle, ok, e dico, perfetto, ma questa query è 1800, chi è che la sta creando? Perfetto, è molto semplice, senza fare nessun tipo di ragionamento, senza utilizzare bottoni di access, vado giù nella 1800 e ecco che io ho trovato che quella query viene richiamata da questo passaggio e so anche che probabilmente, guardando la 1800, ok, vedo la 1200, so che ci sono diverse query anche prima, insomma. Quindi quando create una query di creazione sempre underscore crea, quando create poi la tabella di quella query togliete l'underscore crea, così avete risolto il problema molto velocemente. Stessa cosa quando fate l'accodamento, con l'accodamento, ad esempio, vediamo, ne dovrei avere, ci mettete l'underscore a coda alla fine, ok, questa è una query di accodamento, questo è il simbolo dell'accodamento. Così vi date un metodo molto semplice e intuitivo per tutti quanti. vi dirò che l'ho fatto adottare a diverse persone e non ho trovato nessuno che si sia trovato male con questo sistema qua. Quindi è importante seguire questa cosa qua. Altra cosa importante, allora andiamo su questo qui, vedete, io qui ho creato due database, ho creato un database di query e un database di table. Potenzialmente i database di table possono essere infiniti, ne potete fare quanti ne volete. Perché ho fatto il database di query? perché sempre dall'esperienza ho praticamente scoperto nel tempo che creare un database dove si mettono esclusivamente le query rende il database più stabile. Oltre ad essere più stabile, non avete il problema che il database centrale che fa tutte le elaborazioni possa arrivare alla dimensione critica che fa esplodere il database, quindi alla dimensione che poi blocca tutto e poi magari andare a spostare le tabelle dovete fare del lavoro. Quindi il succo è quando andate a creare delle tabelle dove storate dei dati creare tanti micro database. Questo vi dà un ulteriore vantaggio oltre a rendere appunto proprio il database dove c'è l'ETL che andate a elaborare tutti i dati ok, più stabile ma anche perché poi quando lavoreremo con le macro e il visual basic sono sì stabili, funzionano bene però insomma bisogna stare attenti perché quando si elaborano tanti dati in questo database dove ci sono anche macro e visual basic lo spazio va su giù e è facile che poi magari si corrompa per qualche motivo ok, separando le tabelle e mettendole su altri database è veramente molto difficile che qualsiasi database vada a corrompersi. Oltretutto vi stavo dicendo che se avete un database di table ok, potenzialmente voi potreste andare ad occupare una singola tabella fino a 2 giga di spazio perché ogni database ogni singola database access può contenere fino a 2 giga e 100 di dati quindi potenzialmente se avete anche 10 giga da mettere ok, magari vi fate 10 database dove su ogni database ci mettete circa 1 giga di dati così avete un sacco di spazio e con un singolo database access di elaborazione di dati poi collegate tutti i dati all'interno del vostro database di ETL perché vedete qui ogni volta che vedete una freccettina che va da sinistra verso destra questa freccettina è blu significa che sono tutti oggetti collegati da fonti esterne quindi qua ci sono dei CSV che arrivano dall'esterno e queste sono tabelle ad esempio la 1000 ok, questa arriva appunto dal database di table dove appunto dentro qua ci troverete solo le tabelle adesso lasciate stare queste che non c'entrano niente ma comunque troverete il dato storato e questo dato qua se noi andiamo a vedere tutti gli oggetti access vedete non c'è macro non c'è visual basing non c'è niente perché io non andrò mai ad alzare questa database sarà proprio un DB lì, messo lì che resta fermo e che l'unica cosa che dovrete farci è la compattazione in automatico che poi vedremo durante la masterclass come si fa oppure fate voi il compatta manuale oppure più semplicemente potete lanciare il compatta anche da una macro attraverso il database centrale però è importante scropporare tutto proprio per avere più stabilità più ordine e avere anche la possibilità di superare proprio i limiti come gestione dello spazio che access vi permette di utilizzare poi diciamo come collegare gli oggetti e come creare le tabelle di creazione che non creano dentro l'access ma le creano su altri database lo vediamo poi nelle prossime lezioni dove passiamo con i primi passi man mano che faremo le lezioni vi faccio vedere anche questi trucchetti molto semplici e li vediamo a fondo bene direi che con questa lezione è tutto ricordatevi sempre datemi datevi una nomenclatura in modo da avere un ordine cronologico di come create le cose ma non non cronologico proprio un ordinamento dell'elaborazione che fate con i dati le tabelle le chiamate come le query solo che le query ci mettete l'underscore crea se fate una creazione oppure l'underscore a coda vi mettete magari una query vuota dove identificate il blocco di query e cercate di separare query da tabelle ok questa non è una regola obbligatoria separare le query da tabelle magari se avete cose piccoline che occupano 20-30 mega non serve andare a fare questo lavoro qua però se cominciate a lavorare con dati che occupano 500 mega 1 giga è sempre meglio andare a fare la scorporazione di queste informazioni va bene direi che è tutto lasciate un like se il video vi è piaciuto aiutatemi a far crescere il canale condividendo queste risorse se vi fa piacere anche nei vostri social se non siete iscritti premete il bottone rosso e ci vediamo alla prossima lezione a presto ciao